Seminario sul risparmio. L'Ambrenedetto farà dei seminari sul risparmio, magari in giro per tutta Italia, anche con degli special guest che io conosco personalmente, diciamo sul riscaldamento. Cioè io sono qui sul fiume, guarda qui, pezzo di legno qui, pezzo di legno qui, pezzo di legno qui, ok? Non c'è bisogno di andare nel bosco, tagliare, basta che fai due passeggiate al fiume e trovi tutta la legna che vuoi. Te la prendi, te la tagli, te la porti a casa, anche quella piccolina, hai già risparmiato, hai già risparmiato sul riscaldamento. Una bella stufa, hai già risparmiato sul discorso del gas. E adesso proseguiamo dall'altra parte. Si spendono soldi in sport, prendete un mare di soldi. Risparmiare, risparmiare mantenendosi in forma. Camminare, cosa c'è di più bello di camminare a passo veloce sul fiume, nella natura? Questo è già un risparmio. Quindi sport, camminare, al massimo a casa ti prendi, ti fai due pesetti i tuoi e sei apposta. Spesa per allenamento zero. Guarda che bei fiorellini naturali. Hai fame? Non è che ti vai a spendere un mare di soldi, che vai giù a Milano per un panino ti chiedono 5-6 euro. Se sei in giro, ti porti il salame, ti porti un panino e praticamente è risparmiato. Cioè te lo porti, ti fai il panino col salame, ti porti da bere una bottiglietta come ci abbiamo lì nel sacco, un panino, salame e siamo apposta. E cosa hai pagato? Al posto di pagare 6 euro ogni panino. Ti prendi questo qui, lì dal bottegaio, anzi noi siamo andati addirittura dal paesano che costa ancora di meno, è più genuino. Ok? Ed è un altro risparmio. Si può risparmiare, si può risparmiare. Ci sono tanti modi per risparmiare. Proseguiamo dall'altro. Siamo sul fiume, fiume, risparmiare, pescare. Si può tranquillamente prendere i pesci, sono un grandissimo pescatore. Io vi farò vedere come si fanno le mosche artificiali, come si fa, dove andare a fare i gatoz, le esche naturali. Vieni giù, peschi, se sai pescare decentemente, una trottella, i persici, un cavedano, poi te lo fai. Pensa quanto hai potuto risparmiare, utilizzando anche esche o che te le fai tu da solo, quindi ti fai a casa le camole, te le costruisci te, ti prendi il filo di filanca, le robe, so fare tutto, io sono un grandissimo pescatore da quello. Oppure ti fai le esche artificiali, hai preso pesce, ottima alimentazione, è già risparmiato tantissimo. Oltre che ovviamente poi farti a casa il tuo orticello, compagnia varia, di cui puoi prendere l'acqua da qui, con due bei secchielli, te li porti a casa e non spendi neanche l'acqua. E ti alleni pure, ti mantieni in forma, facendo lo sport del camminare che costa zero. risparmio. Cioè qui siamo per esempio fra Porto D'Adda per andare a Paderno, guardate che bello qua. Ci sono i posti per fare il picnic, ti puoi fare la grigliatina, c'è tutto anche dove buttare via la spazzatura. Perché? Uno deve spendere un pacco di soldi ad andare a ristoranti costosi, stellati, eccetera, eccetera. Per l'amor di Dio, non dico che ogni tanto ci puoi anche andare, in qualche d'uno magari che non ti spendano. Ma vieni qui, ti prendi da mangiare, vieni qui, ti fai la tua bella grigliatina, ti fai le patate, te le fai belle grigliate, ti prendi le zucchine. Qui sei alla natura, fra gli uccellini e non hai speso niente, niente. Perché la natura è gratis, il mondo è gratis, l'acqua è gratis, il mondo è gratis, il risparmio, il risparmio. E vi dico che questi seminari che io farò in giro, li voglio fare dappertutto, ok? Voglio coinvolgere anche altre persone, magari anche Fabio Bergomi, il mio amico, che lui parla sempre d'amore, mentre mentre parlo di risparmio lui parla pure d'amore, ok? Coinvolgere, ripeto, dei super guest star che conosco io, che non hanno mai lavorato. E questi sono dei maestri di vita sul risparmio. Mai lavorato, mai lavorato, ma non sono ricchi di famiglia, non sto parlando di chi ho già fatto vedere che ha la fortuna, che hanno avuto dei lasciti. No, queste, gente normale, non hanno avuto nessun lascito, ok? Non sono né ricchi di famiglia, non rattano da nessuna parte, hai capito? Mai lavorato, grandi guest star, queste guest star io devo portare. Uno non si vuole far vedere perché vabbè, un altro invece arriverà col passamontagna, un altro invece non ha problemi, ok? Gente, gente, mai lavorato, addirittura non vogliono neanche il reddito di cittadinanza, cala mai che li chiamano per errore, ok? La natura è gratis, il mondo è gratis, state qui, respirate aria pulita, pescatevi, fate un bel pesciolino, andate lì una trottella, ve la fate lì alla bella griglia, si può risparmiare, si deve risparmiare, si può vivere, io vi porterò delle guest star che poi io in questi seminari si parlerà di vari livelli, vivere con 600 euro, livello 1, vivere con 500 euro, livello 2, con 400 euro, livello 3, con 300 euro, livello 4, con 200 euro, livello 5 si può arrivare, si può arrivare a vivere con 200 euro, vi porterò delle guest star, delle guest star che voi non avete la minima idea, gente, gente che non ha mai lavorato, mai lavorato e vi insegneranno tutto, vi insegneranno tutto, ci saranno anche degli esempi vieti, ma non gente che l'ha fatto per un anno, due anni, che lo fa da anni, 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 gente che ormai ha 50 anni, nei seminari non si potranno sempre avere le guest star, però avrò filmati di persone, ingegneri che spiegheranno come risparmiare anche sull'auto, il momento diciamo dell'accensione, il momento in cui si consuma più benzina per esempio, porterò dei filmati di persone che praticamente contano le monetine e vi insegneranno loro, anche loro il vero risparmio, risparmiare si può, si può, si può vivere con pochissimo, si può vivere veramente con poco, ripeto, gente che vive anche con 200 euro al mese, tranquillamente, perché non è, non è necessario avere mille vestiti, si può avere una camicia per 20 anni, sempre la stessa, basta prendere il tessuto buono e lavarlo e se il collo ti si consuma lo tagli via, lo ricuci e fai il collino alla coreana, io ne conosco un mare di gente così che veniva a pescare e c'aveva uno giubbetto, sono arrivati a 50 anni e era ancora il giubbetto di quando avevano 15 anni, l'hanno tagliato e praticamente hanno messo dentro un inserto per allargarlo e dove il collo si è consumato ho gente, io conosco gente a pescare, c'è bisogno di prendere un retino costoso, conosco gente che ha utilizzato la tapparella rotta per farsi il contenitore con la busta di plastica, si può risparmiare, si deve risparmiare.